Più o meno come l'anno scorso, sono partite tardi, quindi verso il 10 abbiamo avuto un po' più di affluenza di gente, però non ci lamentiamo. Anche quest'anno, nonostante la crisi che c'è stata, la crisi mondiale, il nostro negozio ha retto bene, forse perché siamo un negozio specializzato nei giocattoli. Rispetto all'anno 2008 le vendite non è che siano poi così diminuite, è molto più faticoso lavorare per il fatto che si nota molto bene il problema economico che c'è nelle famiglie, si lavora tutti con più fatica. Grazie al centro commerciale naturale ci siamo organizzati, abbiamo proposto, abbiamo comunque fatto e promosso tante di quelle cose. Per fortuna abbiamo dei prodotti esclusivi in tutta la miata e ce la caviamo abbastanza bene, però comunque anche qui la crisi si fa sentire, dipendeva un po' a giorni e giorni. E in che modo ha influito il cattivo tempo nelle vostre vendite? Dunque, il cattivo tempo influisce sempre nelle vendite perché il tempo brutto non invoia la gente a uscire di casa. E così lo stesso anche per la neve che con la nevecata i giorni scorsi ha creato non pochi problemi. Anche se grazie a mezzi del comune che sono sempre efficienti, la gente, i clienti che abbiamo nei paesi intorno sono potuti venire al negozio a far compere. Si spera che con l'anno nuovo, il 2010, quindi porti un incremento nelle vendite e un'affluenza più di gente.